E già sfida salvezza al Bente Godi tra Chievo e Atalanta. Atalanta che va subito in vantaggio al diciassettesimo, Raimondi apparecchia per Maxi Morales, ottava rete in Serie A per l'Argentino che torna il gol dopo un anno. Atalanta in vantaggio dopo un inizio che era stato decisamente migliore per il Chievo. Chievo che poi prova a cercare il pareggio nel finale del primo tempo. Qui l'apertura verso il Tigarrivia col sinistro, prova all'esterno della rete. Finisce 1-0 il primo tempo per l'Atalanta che a inizio ripresa prova a trovare il colpo del K.O. Il destro da parte di Cigarrini, deviazione di Dennis, palla tra le braccia di Pugioni. Poi quasi tutto Chievo a rembante nel finale, colpo di testa da parte di Pellissi appena entrato, paratissima di consigli che tienono 1-0. Siamo vicini al novantesimo, a rembaggi finali per la squadra di Sannino. Dramei in era di rigore, poi la sponda verso il destro di Rigoni. Lucchini, vede via sul fondo. Finisce 1-0 per l'Atalanta che per la prima volta nella sua storia batte il Chievo al 20 godi e lo mette in crisi.